Grazie all'associazione Noi per Napoli, a Olga De Mago, a Luca Nupoli e a Luciano Schifone, perché no, faremo un concerto di Capodanno al Teatro delle Palme scintillante, vero Olga? Diciamo la verità. Io ribadisco quello che appunto Lorenza ha appena confermato, che l'associazione Noi per Napoli opera nel settore da 25 anni e si occupa molto del settore artistico e culturale. E anche quest'anno, ormai sta diventando di tradizione, propone il concerto di Capodanno al Teatro delle Palme. Si avvicenderanno sul palcoscenico tanti artisti e quindi anche tutte le arti, ma uno canto-orchestra. Una tradizione che non deve mai mancare, Luciano? No, assolutamente la tradizione del canto. La canzone è uno degli elementi invissolubili rispetto alla città di Napoli. La tradizione di Napoli si identifica con questo biglietto da visto che ci ha fatto notte in tutto il mondo. E quindi questa opera meritoria dell'associazione Noi per Napoli, che è sostanzialmente gemellata, con un circolo alla ponte, abbiamo più o meno gli stessi anni, e svolgiamo questa azione culturale nella città di Napoli, e questo Capodanno lo iniziamo, sento l'insegna della canzone napoletana, che sarà un viatico per una città che deve riscaldarsi e puntare sempre verso l'alto. Il nostro tenore, Luca Lupoli, allora come ha detto Olga, sarà molto articolato questo concerto di Capodanno. Entriamo un po' nel dettaglio. Come sarà articolato? Che cosa succederà il primo gennaio 2017 sul palco delle Palme? Prima di tutto sarà, come già detto, da Olga protagonista la musica a 360 gradi, la danza, l'orchestra e il canto. E vogliamo partire in un repertorio che avrà un'escursione dalla romanza Salotto dell'Ottocento, passerà poi per l'operetta la canzone classica napoletana, e arriverà fino ai giorni nostri con i musical, le classic parade e le colonne sonore dei film più grandi della storia. Quindi ecco perciò un excursus anche storico e culturale della musica. Però sarà godibilissimo e sarà veramente una festa della musica per regalare agli spettatori che verranno quel giorno all'inizio di un anno veramente brillante e in allegria e spensieratizza. Vi aspettiamo con il nostro Luca Lupoli, Olga De Maio, Lorenza Licenziati, Luciano naturalmente l'aspettiamo il primo gennaio 2017 al Teatro delle Palme per il concerto di Capodanno. Termina qui una nuova puntata di Eventi in Anteprima TV. Se volete riguardare la puntata...